Guardi l'opera di questo artista olandese, Mark Manders. Cerca le tracce dell'amore nei frammenti divisi e di corpi. La classicità della bellezza fatta a pezzi con mania razionalista. Dettagli di donna interrotti dallo scempio di macchine infernali. Sembrano così lontane eppure sono così vicine. Figure on chair e composition with verticals. Corpi e simulacri di donna che si ricompongono intatti nella mente di chi guarda. Lontani, lontanissimi dolori che fanno male come ferite appena aperte.